Se volete farvi una piccola cura di bellezza, una piccola coccola o un trattamento, potete farvi questo scrub che si prepara in casa, è semplicissimo, sono tutti ingredienti super naturali, come tutte le cose che piacciono a me, sono tutti piccoli ritrovati casalinghi, ho fatto uno scrub per le gambe e mi è piaciuto tantissimo, vi do la ricetta che sono davvero tre ingredienti in croce, si prepara tutto dentro una tazza o in un bicchiere largo, dovete mischiare del sale grosso con del sale fino, questi due sali li mettete nella stessa quantità, poi ci mettete all'occorrenza, cioè per quanto vi servirà, dell'olio extravergine di oliva, io ne ho usato una tazzina da caffè e il succo di mezzo pompermo, voi dovete massaggiare bene questo scrub sulle gambe, lasciarlo circa un minuto e poi risciacquare, vedrete che pelle liscia, che effetto meraviglioso che fa sulle vostre gambe!